La fiera tornerà il prossimo anno, più sicura e bella di prima. Con queste parole l'assessore alle attività economiche del Comune di Pesaro, Francesca Frenquellucci, ha annunciato che la fiera di San Nicola per quest'anno sarà annullata. Una decisione presa stamani in giunta dopo una lunga consultazione con ambulanti, associazioni di categoria, prefetto e Asur. Ci dispiace tanto di questa decisione ma non possiamo assolutamente abbassare la guardia e dobbiamo pensare prima di tutto alla salute dei cittadini. Abbiamo voluto anticipare la notizia per aiutare le imprese a non comprare la merce che poi avrebbero venduto alla fiera di San Nicola. La fiera di Pesaro non è stata l'unica ad essere annullata. La crescita della curva dei contagi, che si è verificata soprattutto negli ultimi giorni, ha comportato anche la sospensione delle fiere di San Bartolomeo a Fano e Sant'Agostino a Senigallia.